Guardate cos'è Corso Francia Noi siamo col mezzo allo sbarco Guarda, una donna di giusto No, vabbè, non sappiamo che è successo Guarda quella, guarda quella Madonna, guarda Guarda il motorino di questo Quello con la moto ancora va L'autobus sta uscendo dai combini Guardate che cos'è Guarda, si è sfondato la strada Hai cascato l'autobus Guardate No, vabbè Che se fosse fermata la macchina Pensate che se fosse fermata o no? Guardate che se fosse fermata la sua Guarda qui si fosse fermata la macchina